La Princess, reagisce alle recenti dichiarazioni dell'attore da Barbara D'Urso, ecco cosa ha combinato. Ieri pomeriggio Alex Velli è stato ospite del salotto di pomeriggio 5 di Barbara D'Urso dove ha avuto l'occasione di parlare in modo approfondito della fine della relazione fra Lulu Selassie e Manuel Bortuzzo. Nel corso dell'intervista, dove ha parlato anche della voglia di un figlio con Delia Duran, Velli si è permesso di rivelare qualche dettaglio in più di cui ancora non eravamo a conoscenza, peccato solo che a quanto pare si sarebbe spinto fin troppo oltre, perlomeno stando alla reazione non esattamente accomodante della diretta interessata. Partiamo dal fatto che Alex Velli ha spiegato come Lulu e Manuel si sono lasciati, rivelando anche la tempistica del fattaccio. Stando al suo racconto, i due ormai ex fidanzati hanno iniziato a discutere animatamente al telefono mentre Lulu era impegnata con le sorelle in uno shooting fotografico alla AXB Factory. Si sono lasciati perché c'erano dei problemi, ma non di questi giorni, vengono da lontano, ha commentato Belli, scatenando le ire di Lulu e pare anche della sorella. Alla luce delle dichiarazioni dell'attore, Lucrezia Selassie ha deciso di prendere una decisione, forte. La Princess, come hanno subito notato i suoi fan, ha eliminato dal suo profilo Instagram un post che faceva riferimento allo shooting, così come le relative stories in evidenza. Immagini spensierate, dove Belli e le Selassie apparivano sereni e felici insieme come dei veri amici. Ma l'amicizia, a questo punto, potrebbe essere ufficialmente arrivata al capolinea. C'è di più, a supportare la tesi della fine del rapporto di amicizia fra Alex Belli e le Selassie, ci sono anche dei lichè, sospetti. Jessica Selassie, vincitrice del GF, ha infatti messo mi piace a dei tweet critici nei confronti dell'attore. Lulu ha tolto il post con le foto di Hub per me a conferma che lui ha detto stron asterisco a te e punto, ha scritto un utente, ricevendo per l'appunto l'approvazione di Jessica. Ciao! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti